benvenuti in questo nuovo video ragazzi quest'oggi voglio unire la pizza col gaming fifa e la pizza qui abbiamo una bella pizza tagliata in ben 8 parti adesso noi andremo a fare una partita con questa squadra la squadra food ovvero ogni giocatore di questa squadra ha un nome cibo e possibilmente di un cibo che si avvicini di più a qualche ingrediente per la pizza ovviamente non ci sta prosciutto pomodoro e mozzarella però ho cercato sul mercato giocatori con i cognomi ci nascerò di più al cibo prima fare una partita e la voglio rendere ancora più difficile le andremo a fare nelle ragazze sono livello 4 quindi capirete che il livello è un po' artino però andremo a farlo con questa squadra la sfida consiste che per ogni gol che noi andremo a subire nella partita andremo a mangiare una fettina di pizza io non ho nemmeno fame senza che ci perdiamo in chiacchiere andiamo a vedere i giocatori della nostra squadra in porta abbiamo Paul Leisberg colui che dovrà difenderci dai gol e non dovrà farci mangiare la pizza come difensore destro abbiamo Salem il giocatore che si avvicinava di più al salame poi abbiamo Pollack di questa volta è un difensore donna che andiamo a mettere proprio centrale davanti alla difesa poi ovviamente non poteva mancare pepe in questa sfida poi abbiamo farina che ovviamente non si può fare la pizza senza la farina centrocampista centrale Pizzi il giocatore che si avvicinava di più alla pizza secondo centrocampista che lo accompagna e basi che sarebbe basilico vai facciamocela passare bene vediamo come essendo sinistro carbonero diciamo che si avvicinava alla carbonara come amo c o c di trolla a punta principale abbiamo caputo caputo come ben tutti sappiamo è la farina di Napoli quindi non poteva mancare in questa sfida quando c o c che accompagna la punta abbiamo acqua perché ovviamente non si può fare la pizza senza la farina e l'acqua e come prima punta abbiamo latte cosa c'entra con la pizza diciamo che con latte si possono fare anche le focacce ragazzi la squadra l'abbiamo vista e partiamo con la partita ci prepariamo anche la pizza perché ovviamente con questa squadra i gol li subiremo la squadra di questo è pure abbastanza forte è quella la cosa più bella pure abbastanza forte la squadra di questo vabbè vaiù io non ho fatto non ho messo di meno le tattiche perché capirai quindi andiamo con farina che subito perde palla grande farina il nostro mitico farina subito ha perso la palla ok basilico farina pizza pizza avanza pizza avanza vede caputo 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 calcio l'angolo c'è la nostra pollac ovviamente si chiama l'uomo si avvicina pizza subito per pollac il nostro latte no viene fermato ma io comunque non dobbiamo subire gol che veramente non c'ho tanta fame quindi quindi no mamma mia pollac il miracolo di pollac il salemma che più vincenzo salemme che un salame comunque carbonero basilico carbonero ma io non ci sono nemmeno dei tanti che sto giocando a tre in difesa è una situazione un po difficile vede carbonero carbonero si chiama il giocatore qualcuno che viene l'acqua subito per carbonero carbonero dentro per acqua fuori per pizzi basilico no fermato dato di buono guardiamo il centrocampista centrale voglio non mi ha dato a pizzi voglio non mi ha dato a pizzi pollac bag ma voglio me lo metto di togare il weekend di farina vede ciccia caputo 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 è nostra no ma come pizzi salem farina pizzi latte caputo ragazzi comunque il giocatore più forte della squadra dopo pepe è caputo l'unico che può fare qualcosa pizzi basilico carbonero pepe pollac non subiamo gol non subiamo gol vai pollac bravissima farina caputo latte latte non è fuori gioco no ma non era fuori gioco no ma non era fuori gioco arbitro bravo pollac carbonero acqua basilico hai visto il terzino brava vai farina vai farina vai farina farina per caputo latte 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 1 e 0 ma io che squadra basilico pizza farina caputo dietro per salame salame avanza di nuovo per caputo di nuovo per pizza no no bravissimo basilico farina latte dentro per caputo no no qualcuno mi avanza particolare mi può riuscire quando è passato a gioco ho passato gioco vengono con i mondi guardate davissima polla che difensore no pizzi no davo farina a pizzi basilico tutta la in salame davo pizzi pizzino davo basilico Qualcuno che avanza Qualcuno che avanza Con calma Vai farina L'hai visto sul secondo palo Acqua No Che cacchio fai Bravo farina Salame Pollo Salame Pepe Che Pepe no Pollo Ancora Pollack Pepe Carbonero Latte che si vuole proporre E invece acqua Acqua Avanza acqua Dietro Per carbonara Carbonara Che vede basilico Canciazze e crente Carbonara e basilico Pizza Che vede farina Farina Indietro per salame Per pollack Basilico Pepe Di nuovo basilico Vaiu che azione Che squadra Vaiu Questa è un tiki taga Carbonara Pepe Basilico Pizza No Si sono chiusi Ovviamente ragazzi I giocatori sono quello che so Già dobbiamo essere fortunati Che stiamo vincendo Caputo Che intervento Se fine primo tempo Stiamo vincendo Maginamente 1-0 Noi ancora non dobbiamo subire un gol Infatti la pizza Ancora tutta qua Noi dobbiamo mantenere Dobbiamo mantenere Con questa scuola Con questa scuola Con Pollack Si è taffa Questi gol La prima fettina Di pizza A sempre piacere Mangiare la pizza Basilico Pizza Bravissimo Salame Ma io questo Devo fare un altro Quello della merda E latte Non mollare Caputo Pizza Latte Indietro Carbonara Pizzi No Bravo Pizzi Pizzi L'hai visto Dai acqua Acqua Pizzi Caputo No palo Palo Questa è ancora la pizza Di prima L'arbitro Dove è il fallo Bravo Latte No Noo 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 Anche la seconda Fettina di pizza Non ci credo Abbiamo resistito Fin e mo' Vai farina Vai farina Dietro Latte 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 Coppetta Del nostro Latte E questa qua Ce la finavo di mangiare Con goduria Noo Noo Kickoff Noo Stava mangiando la pizza Volevi Guarda che faccia Guarda che faccia Non se l'aspettava Andiamoci la terza Brava Pollack Vai farina Corri farina Non lo so quanto c'è di velocità Vai caputo No Latte Brava Pollack Che difensore Pollack Brava Basilico Acqua No Eh no vai Saramo Ma si può Non usareamo No Aiuto La quarta fettina di pizza A me Non mi ho parlato Dietro Non me lo vado Sfizzero Magna Grazie Io Non c'ho nemmeno fame Vabbè ma che vogliamo fare Con questa squadra Già i due Bull È Tanto No No Sì Godo 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 Stavamo per mangiare La quinta fettina Ci siamo salvati Grazie La partita L'abbiamo giocata Come potete ben vedere 53 possesso palla Con 5 tiri Anzi la nostra partita L'abbiamo fatta Con la nostra squadra Food Azzolemani Le quattro fettine di pizza Le abbiamo mangiate E anche volentieri Ragazzi Il video Finisce Questo è un primo episodio Che ho voluto portare Fatemi sapere nei commenti Se questa tipologia di video Vi piace Cerca di unire il cibo Col gaming Ragazzi noi ci vediamo In un prossimo video Se non sei iscritto al canale Ricordati di iscriverti E di attivare la campanellina E ci vediamo In un prossimo video